Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni alla fine dice Il partito di Conte, chi? Confesso che sono un po' persa nelle dinamiche dei 5 Stelle e mi pare un po' anche loro. Al di là di Conte, Grillo Di Maio, dice la leader di Fratelli Italia a Torino, penso che non abbiano un grande futuro davanti, credo che il blef sia stato svelato. Beh, sì, il blef, sì, il futuro io non lo vedo. Conte, Grillo, gli avvocati, i notai, non so, realmente questo Movimento 5 Stelle è arrivato a un livello tale che dovrebbe essere chiuso, chiuso per fallimento, non chiuso per ferie, ma chiuso per fallimento. Portano via i banchi, la cassa e tu chiuso. Il Movimento 5 Stelle realmente, per quello che vediamo oggi, non ha più nessun motivo di esistere. Voi dite, ma cosa dici, c'è il 15%, ma quale quarto partito? È una sorta di voto di scambio. Voi mi votate e io vi garantisco il reddito di cittadinanza. Ci sono 1.600.000 persone che prendono il reddito, più i loro familiari, amici che li aiutano. Ci sono intere famiglie che hanno il reddito e votano 5 Stelle, ma non gliene frega niente di questo Movimento, è solo uno scambio, dare per avere. Ecco, Giorgia Meloni dice, ma qui non hanno nessun futuro, ma Giuseppe Conte chi? Di cosa stiamo parlando? E ha tutta la mia comprensione. Altro argomento toccato dalla Meloni durante la sua presentazione del libro, il suo libro Io sono Giorgia Torino, è quella della possibile elezione di Silvio Berlusconi a Presidente della Repubblica, quando si dovrà eleggere l'erede di Sergio Mattarella. Dice, di Mattarella non ho condiviso la scelta sul governo Draghi e mi aspettavo che si schierasse contro le primarie del Partito Democratico. Per il resto, vediamo. Se ci fosse in campo Berlusconi non sarei io a dire di no. Mario Draghi non l'ho ancora inquadrato, sicuramente da parte sua c'è il fatto che se andasse al Quirinale probabilmente si andrebbe a votare subito e siccome l'obiettivo è dare al Paese un governo scelto dai cittadini, prima si va a votare meglio è. Ma potrebbero esserci anche altre strade, dice Giorgia Meloni. La gente ha capito che quando la sinistra ti appiccica addosso le etichette è perché non sa risponderti nel merito. Eh sì, questo lo abbiamo sempre detto. La sinistra e anche i 5 Stelle, a maggior ragione, non hanno delle risposte alle proposte del centrodestra, alle cose logiche che dice il centrodestra, a volte fin troppo banali per contrastare l'illogicità che c'è dall'altra parte. La sinistra non ha argomenti sufficienti e minimi per poter dibattere con il centrodestra. Avete visto Letta? Salvini lo invita. Letta, parliamo. No, ho così o niente. Come ho così o niente? Di solito quelli che dicono è così e basta è perché oltre all'intransigenza, all'intolleranza, realmente sanno di non poter competere dando nessuna risposta concreta. Ed è quello che dice Giorgia Meloni, quando la sinistra ti appiccica addosso le etichette è perché non sa risponderti nel merito. Il loro problema è che ci dipingono come l'uomo nero, che possono non sedersi con noi e rispondere a quello che diciamo perché loro non hanno argomenti. Questo è il loro problema. Ma la gente l'ha capito. Eh sì, cara Giorgia Meloni, l'hanno capito tutti. L'hanno capito anche molti votanti di sinistra. Per cui non rispondiamo semplicemente facendo politica, raccontando alle persone cosa vogliamo fare per loro, qual è la nostra visione, raccontando le idee su cui facciamo le scelte e formuliamo le nostre proposte. E siccome ci fidiamo del popolo italiano, aspettiamo che siano loro a scegliere. Naturalmente ormai questo governo va per i cinque anni. In cinque anni c'è stato Conte 1, Conte 2, Draghi, tre governi in cinque anni. Una media di un anno e sei mesi e mezzo, un anno e sette mesi a governo. Deprimente, vero? Deprimente. Uno non ha neanche il tempo di arrivare e capire come si fa una chiamata esterna col telefono dall'ufficio che ti dico beh adesso vattene perché ne arriva un altro. Ne arriva un altro. Bene, intanto quello che volevo raccontarvi è questo, che Giorgia Meloni anche lei ha perfettamente chiaro che la sinistra è inconsistente. È come un ectoplasma, un fantasma, non c'è. Non ha consistenza, come tu quando vedi un ologramma che fai così e dici ma non è reale, non ha consistenza fisica, non c'è materia, non c'è materia. È immateriale. L'area di sinistra non è tangibile, non è una cosa tangibile. È un po' come nella saga fantoziana quando si parlava del mega direttore galattico che si diceva forse non esiste neanche, forse vive solo nell'immaginazione, è una cosa, è un'entità astratta. Non esiste il direttore generale, il presidente, nessuno l'aveva mai visto e giravano voci incontrollate e incontrollabili su quello che faceva questa entità. Ecco, insomma, la sinistra realmente non c'è. Ci sono i palazzi, il Nazareno, c'è Letta, ci sono i politici, ma oltre la materia umana di queste persone, il palazzo, non c'è un pensiero, non ci sono dei pensieri, non c'è nulla, di nulla. E Giorgia Meloni lo dice, ti appiccicano addosso le etichette perché non sanno risponderti nel merito. Bene, non hanno una visione, dice Giorgia Meloni, ma la gente ha capito. Ci dipingono come l'uomo nero, non si siedono a parlare con noi perché dicono, oh no, 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 l'uomo nero no, l'uomo nero no, ma ci dipingono così. Ma realmente, realmente, come vi dicevo, il problema è, come dice Giorgia Meloni, che non hanno argomenti. Questo è il loro problema. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra circa una ventina di minuti. Grazie a tutti, arrivederci e a presto. Ricordatevi che anche c'è Teleitalia Seconda Rete. Grazie a tutti.